E' un'amicizia che dura da 30 anni, quella che lega l'associazione culturale Questione de Par e i componenti del gruppo folcloristico di Grosio, la tradizione di Valtellina. Un legame dettato dalla comune passione per la cultura popolare della montagna, perché entrambi i gruppi perseguono la riscoperta e la valorizzazione dei costumi tipici. Un legame che si rinsalda anche con periodici incontri conviviali intervallivi, come quello che si è svolto questa domenica sul Monte Vaccaro, sopra Parre. Un'amicizia che si nutre ovviamente anche di pizzoccheri e di scarpinocci, ma alla base della quale ci sono importanti valori condivisi. Alla base di tutto c'è una grande amicizia che ci lega, che si tramanda da una generazione e più. Difatti con l'Angelo e l'Alessandro, che sono i promotori che hanno iniziato con il gruppo di Parre, sono già 27 anni che facciamo manifestazioni folcloristiche e queste feste che ci incontri, che ci troviamo ultimamente, anzi già da tanti anni che quasi tutti gli anni, e al Vaccaro o in Val di Sacco, dalla nostra parte di Grosio, facciamo gli scambi scarpinocci e pizzoccheri. Quanto al gruppo Parrese, sono molti gli impegni che lo attendono nell'immediato futuro. La nostra prima uscita proprio qua a Parre è sabato 12 giugno alle ore 21 presso la Piazza Fontana, ci sarà un bel incontro, no? Folclore semplice, aspettando l'estate tra canti e poesie, quindi quasi avremo ospite la compagnia di Cansù di Rovetta e si leggeranno bellissime poesie di noti poeti dialettali. Approfittiamo per fare la benedizione del lavoro, una cosa molto importante, eseguita dal noto pittore Benussi Sergio.